Quante volte avete ammirato il mare dalla passeggiata panoramica che lo costeggia? Per la riqualificazione della fascia retrostante agli stabilimenti balneari di Milano Marittima sono stati scelti i prodotti per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo architettonico sia per la strada sia per i percorsi adiacenti. Un connubio di materiali diversi che hanno dato nuova magia al mare.